Ho di fronte a me un intellettuale elegante, raffinato, ironico, brillante e senza della miglior napoletanità. Me lo dice lei chi è? Napoletanità non mi piace perché questo termine precede sempre gli scrittori napoletani e non gli altri scrittori, perché uno scrittore deve essere uno scrittore e basta. E io sono uno scrittore e basta. Poi sono napoletano, ma dopo? Ma io l'ho detto apposta perché so che questo è un grumo che ogni tanto deve tirare fuori. Allora, Raffaele La Capria, grande scrittore, autore di alcuni dei capolavori del Novecento, anche se ricordano soprattutto il primo, Ferito a morte, e questa è una cosa che la fa un po' arrabbiare. Sì, certo, perché ho lavorato tutta la vita, ho scritto 20 libri e si ricorda solo Ferito a morte, però devo dire che Ferito a morte è un libro strano, perché è un libro molto complesso, molto complicato, anche strutturalmente, anche come lingua. Infatti quando uscì non è che tutti lo accettarono, soprattutto gli intellettuali, quelli veramente molto fini, come che so, Piovene, L'Amorante, rimasero tutti un po' perplessi, ma comunque è un libro molto complesso, anche stilisticamente, ma la cosa strana è che io mi aspettavo che non lo leggessero soltanto gli intellettuali capaci di leggere e capire i libri complessi. Invece è diventato un libro popolare e mi sono domandato come mai? Certe volte domandando, anche pensando che avessi fatto uno sbaglio, perché avevo creduto di scrivere un libro sofisticato, invece era un libro popolare. Questo libro ha una caratteristica che di solito oggi un libro esce e dopo una settimana, un mese è sparito. Invece Ferito a morte è sempre da 50 anni un libro molto richiesto e questo naturalmente mi fa piacere, è un libro, come si dice, un long seller. Lei ha frequentato la letteratura, ma anche il cinema, il teatro, il giornalismo civile. Ne ho fatte che ne ho fatte. Ne ha fatte e ha vinto tutti i premi letterari importanti che poteva vincere, lo strega, il viareggio, il campiere. Sì, che mi mette in sospetto, però, perché i premi letterari ti mettono in sospetto. Comunque andiamo avanti. Era giusto darglieli questi riconoscimenti, ma il riconoscimento più grande arriva forse adesso con i due volumi dei Meridiani Mondadori. Brava, hai fatto bene a nominarli, sai perché? È un caso unico nella storia dei Meridiani, un Meridiano che esce due volte, perché ne era già uscito uno quando io avevo 80 anni, tanto tempo fa. Poi loro pensavano che con 80 anni la partita fosse chiusa e si fossero liberati di la Capri. Invece la Capri ostinatamente ha continuato a vivere, non solo, ma anche a scrivere libri. E ne ho scritti altri sei. Allora si poneva la questione di fare un'opera completa e si è dovuto rifare il Meridiano, mentre il primo contiene tutto quello che io ho scritto fino a 80 anni, quest'altro contiene tutto quello che io ho scritto fino a 92 anni, il che significa che è la mia opera completa. Ora mi sono levato il pensiero e non voglio scrivere più niente. Io non ci credo. E avranno il problema, quando di anni ne ha 100, di fare una terza nuova edizione dei Meridiani. Grazie dell'augurio. Insomma, 92 anni sono una bella età. Una bella sommetta, sì. Ma lei si sente sempre come a 40, 50, 60 anni. Con la testa, sì. Questa è una grazia enorme. Sì, però la testa ti ha anche la possibilità di capire bene le tue condizioni. Qualche volta non è allettante. Lei è vissuto in un'epoca, cito la capria, in cui l'acqua del mare era chiara sempre. Lì la chiamo l'età delle trasparenze. L'ho chiamata così. Quando il mare era più trasparente, il cielo era più puro e la terra era più pulita. Ma non è solo una questione ambientale, no? È una questione che io ho vissuto troppo, anzi troppo, abbastanza, per dividere il tempo in due età. Appunto, l'età della trasparenza, che è prima della guerra, e l'età invece dell'inquinamento e della profanazione, che è venuta dopo. Si parla proprio dell'ambiente, del paesaggio, in grandi linee. L'età della trasparenza era meravigliosa. L'età della trasparenza è cominciata quando io facevo la pesca subacquea e il mare era limpido come una bella giornata. Il mare era pieno di pesci, perché ancora non era devastato da quelli che amano il mare, hanno i motorini, eccetera. Ed era un'epoca che io ricordo come una specie di paradiso, perché fu in quell'epoca che io incontrai veramente, anzi, devo dire, sposai la natura. Perché Napoli, come sai, ha un golfo meraviglioso. Io abitavo in un palazzo meraviglioso del Seicento, il palazzo della regina Giovanna, palazzo Donnanna, che per me è l'inizio di tutte le fantasie che ho avuto nella mia vita. Era così vicino al mare che io mi tuffavo dalla finestra, certe volte per raggiungere gli amici che sotto mi chiamavano con la barca. E sono stato uno dei primi pescatori subacquei. Ormai il fondo del mare è diventato un fatto comune, perché lo vediamo sempre in televisione. E quindi non si ha l'idea della meraviglia che poteva suscitare all'età mia, cioè nell'età della trasparenza. Ma quando io per la prima volta mi misi gli occhiali per guardare sotto il mare e vivi quelle meraviglie, cioè il mare trasparente, gli scogli, i pesci che si vedevano a distanza, come tu vedi oggi un paesaggio quando è una bella giornata, beh, non puoi sapere la meraviglia che questa scoperta di quest'altro mondo suscitò in me. E quest'altro mondo era il mondo della natura, che io frequentai proprio anche per una questione di vicinanza, perché mi addormentavo la sera col rumore del mare tra gli scogli e quindi, voglio dire, il mare era sempre presente per me. E lì nacque l'idea della bella giornata, che è un'idea, diciamo, che nacque con ferita a morte, quando un raggio di sole attraversò il buio della stanza dove stavo dormendo e stampò sul muro un tremolante geroglifico di luce e mi annunciò che fuori era una bella giornata. Cos'è una bella giornata che ti fa felice? L'attesa della felicità, che è all'inizio di ogni vita, perché ognuno appena si affaccia alla vita si aspetta la felicità. E per me quel raggio era l'attesa della felicità. Ma nel libro Ferita a morte io attraverso la bella giornata, il libro è tutta l'attraversata della bella giornata, cioè della vita praticamente, e man mano che tu l'attraversi ti accorgi che tanto bella non è che la bella giornata è attraversata da un'ombra. Come lo si vede da tanti piccoli incidenti che accadono nel libro. Il cielo è sempre azzurro, il mare è sempre caldo, ma c'è qualcosa che attraversa un'ombra. E questo accade in tutte le vite. Tutte le vite conoscono questa ombra che è il dolore. Non c'è vita senza dolore. E io racconto questo. Dovesse parlare delle sue ombre, delle ombre che hanno attraversato la sua vita personale. Lei ha fatto cenno a tanti dolori privati, gli amici che non ci sono più, ma anche dolori del mondo, che lei fa suoi, no? Sì, ho raccontato molto il dolore del mondo anche attraverso varie metafore, tra cui alcune metafore che avevano al centro degli animali. Una di queste metafore, per esempio, riguarda un ciuchino che io incontrai in Egitto mentre stavo visitando il tempio di Kranach. Questo ciuchino stava attaccato a una staccionata e stava legato con una corda molto corta, umile, silenzioso, con gli occhi abbassati. Nessuno lo guardava. Era pelle e ossa, aveva tutta la spina dorsale che si vedeva. Quindi si capiva praticamente che era molto denutrito e magro e debole. E io pensavo, guardandolo, cosa si può aspettare questo ciuchino dalla vita? Solo uno maccione che lo cavalca, dei pesi enormi da trascinare, delle batoste in faccia su quella schiena snodata, eccetera. Cioè un dolore infinito e basta. Guardai il tempio di Kranach, tornai in albergo. Praticamente questi viaggi uno ha mille distrazioni e a un certo punto, mentre guardavo il Nilo scorrere sotto l'albergo con davanti una tazza di tè, ho ripensato al ciuchino. E mentre ci ripensavo, ho pensato, ma ci sarà un altro che come me lo pensa? E se non c'è io che vivo a fare? Questa è una metafora per spiegarti come la penso io a proposito dell'universo e di Dio. Cioè praticamente, cosa vuol dire questa metafora? Vuol dire è possibile che il dolore anche di piccolo animale sia per niente, non sia registrato da nessuno, sia gratis, si può soffrire per niente senza nessun riconoscimento, senza nessuno che sappia del tuo dolore. Se Dio non sa questo, che Dio è? Allora io ho pensato, se io penso al ciuchino, per forza ci deve pensare pure Dio, perché se no il mondo non vale la pena di viverlo. Ecco. Quindi Dio pensa anche a Raffaele Lacapri e pensa a me. Pensa a tutti se c'è. Però lei è capace di vedere le belle giornate, i raggi di sole dappertutto, no? Beh, dappertutto no, perché questo mondo è spaventoso. Oggi le cose che accadono sono di una ferocia tale che nessuna epoca le ha vissute, e dico nessuna epoca, non perché le altre epoche siano state più dolci della nostra, sono state sempre feroci, guerre terribili, Tamerlano, gli Unni erano spaventosi. Però non c'era la televisione, cioè non c'era l'informazione, cioè queste cose non arrivavano dentro le nostre case, capisci? E quindi oggi, quando tagliano la testa a qualcuno, la vediamo mentre stiamo mangiando, quello è l'orrore, capisci? Cito Lacapria. Io grido e tu non mi rispondi, dice Giobbe al Dio della Bibbia, ma a me sembra che a volte Dio mi risponda, quando una mattina qualsiasi si aprono le finestre e la luce di una bella giornata romana inonda la stanza. Dio risponde. Eh sì, questo è un po' come dire buonismo, però è vero, la bella giornata mi mette in uno stato d'animo come questo. Roma le piace molto? Ma in certi aspetti sì, quando è una bella giornata Roma ha una luce particolare, perché questa luce si sposa con le architetture barocche e fa una composizione meravigliosa di luce e arte che è difficile trovare in altre città. La Roma della grande bellezza. Le piace altrettanto? Sa che hanno accostato la figura del protagonista Jeb Gambardella alla figura di un dandy raffinato in cui qualcuno ha visto Raffaele La Capria? Beh no. Io non ho mai fatto i trenini e i balli con i trenini, sono diversi da, sono diverso da quel personaggio. Comunque, Tony Servillo, io sono amico di Tony, li voglio anche bene e mi piace molto. Un attore napoletano, uno scrittore napoletano deve sempre giustificarsi di essere napoletano. Sì, quello sì, perché ci hanno obbligato in qualche modo, perché i peccati della città ricadano pure su di noi e ne diventiamo responsabili senza... Però a lei Napoli continua a piacere? Molto. La mia immaginazione nasce da tutte le impressioni che Napoli mi ha trasmesso. Si chiama memoria immaginativa ed è fatta di cose minime. È fatta, che so, dal rumore del mare sotto casa, dal sapore di una padella appena levata dallo scoglio e mangiata. È fatta da piccole cose, la memoria immaginativa, capisci? Napoli è il mio carapace, ha detto, il guscio di tartaruga. Una di queste piccole cose è sicuramente il dialetto. Lei ha detto, è la membrana sottilissima tra sacro e profano, tra superstizione e religiosità. Eh, lo so, il dialetto è una cosa importante a Napoli, perché noi parliamo praticamente due lingue, parliamo l'italiano e il napoletano. Quando siamo incazzati parliamo napoletano. E quando invece siamo in conversazione, come adesso io e lei, io parlo abbastanza italiano. Abbastanza. Era infestato, secondo la leggenda, dei fantasmi, dei marinai che la regina Giovanna prima accoglieva nell'alcova e poi, per far sparire le tracce, li buttava nei trabocchetti del palazzo. Questa leggenda è rimasta, e Napoli ha detto, sai, che ci credono molto al sottomondo, ai fantasmi, eccetera. E quindi la sera, quando io ero ragazzino ancora, quando mi ritiravo a casa, io dicevo, vabbè, sono tutte balle, però quando entravo nei corridoi del palazzo, dicevo, vuoi vedere che adesso spunta un fantasma all'improvviso? Un po' di paura ce l'avevo. E quelle paure, però, sono state produttive, perché hanno creato tutto un mondo di immaginazione nella mia testa. Anche se avevano poco a che fare con Dio queste forme di superstizione, no? A Napoli, sai, Dio si confonde molto spesso con la superstizione, tant'è vero che Dio è suddiviso in tante piccole entità. A Napoli c'è un esercito di santi che praticamente allude continuamente alla presenza di un Dio che invece ricopre tutti. Quindi voglio dire, perché noi siamo un po' pagani, siamo l'unica città italiana collegata col mondo antico e quindi alle superstizioni del mondo antico. E Napoli è stata non romana, greca è stata. Quindi praticamente con la parte più nobile dell'antichità, che è la Grecia. Poi viene Roma, Roma è più cafona. I greci erano più eleganti. Gli amici di quando era ragazzo, che sono ancora gli amici di oggi alcuni? Beh, sono morti tutti. È rimasta Alina Bertmuller e poi c'è il deserto intorno a me, un cimitero. Come si regge davanti alle perdite, alle persone, ai volti cari che non ci sono più? Ti spiego. Morì uno dei miei più cari amici e io non piansi. E dico, ma come mai una cosa così terribile non mi fa piangere? E ho pensato, sai perché? Perché io mi sento uguale a lui. Cioè, lui è morto e io sto per morire. Quindi siamo pari che lo pianga a fare, perché siamo nella stessa zona. È diverso quando si tratta di un dolore giovane, no? Per esempio. È diverso. Il rapporto con la sofferenza. Mentre invece all'età mia si è già a metà morti e uno, insomma, piange meno perché dice tanto siamo nella stessa categoria. Intanto io davanti a lei sorrido e vorrei a cent'anni essere morta così. Raffaele Lacapria, lei è amico anche di Giorgio Napolitano? Sì, sono amico di Giorgio Napolitano, ma non lo vado diffondendo. Eh, ma io lo voglio sapere, eravate a scuola insieme? No, non nella stessa classe, nella stessa istituto. Il reggio liceo ginnasio Umberto I a Napoli, un liceo laico che aveva un preside crociano e quindi era sospettato di antifascismo perché allora essere crociani, si parla di anni molto lontani, significava essere di opinioni liberali e quindi antifascisti. Però non si poteva dire. Ma questo per noi giovanissimi ragazzi, eravamo già in pectore antifascisti anche prima che il fascismo cadesse, perché ci riunivamo tutti al GUF, gioventù universitaria fascista, e là tra giovani si parlava, e come si sa, i giovani sono sempre dei ribelli all'ordine costituito e quindi proprio dove il fascismo aveva voluto creare un punto di riunione di antifascisti. Nacque l'antifascismo e noi ci sentivamo come dire i membri di una setta che poi quando fumo chiamati sotto le armi, insomma ci sembrò una contraddizione terribile perché noi eravamo per gli inglesi, per gli americani e quando stavamo sotto le armi eravamo mandati a combattere gli inglesi e gli americani e ci dicevamo ma quando arrivano io che faccio? Gli sparo o gli stringo la mano? Capisci? È stato tutto un pasticcio la nostra gioventù, ma è stato un pasticcio pieno di contraddizioni che poi ha fatto, come dire, diventare più sottile la nostra intelligenza del mondo, della politica eccetera. Lei quando vede Napolitano se la ritrova? Beh, quando ci incontriamo lui è molto simpatico, non è diciamo diverso da come era quando era un ragazzino almeno nella zona dell'amicizia. E giocavate a pallone? Beh, qualche volta nella villa comunale. Ma insomma, Giorgio è stato un bravo presidente, ha una voglia di dire. Raffaele Lacapria, parlavamo di Dio prima e del modo in cui lui si ricorda di noi e ci guarda. Gli occhi di Ilaria, sua moglie, la bellissima, elegante... Ma non accostiamo delle cose che non sono accostabili. Non è lo sguardo di Dio anche sua moglie? No, non confondiamo. Lo sguardo di Ilaria è lo sguardo di una donna a cui voglio molto bene, a cui sono molto legato, non solo per la sua bellezza, che insomma quando ci siamo incontrati in Italia non c'era una bella come lei. Forse vinna lì, infatti erano molto vicine, amiche anche. Quando l'ha vista la prima volta ed è rimasto folgorato? Folgorato proprio no. A Positano era, vero? Beh, come fai a sapere queste cose? Che già un posto romantico di per sé è Positano. Ma c'era come paraninfo Vittorio Caprioli che ci fece conoscere. Ma poi è un tempo favoloso per me, lontano, che io poi, mentre lo vivevo, non lo capivo veramente bene in tutta la sua importanza. Solo oggi a distanza riesco a capire meglio cos'è stata la mia vita perché solo adesso riesco a contemplarla la vita. a metri invece prima, vivendolo, era distratto dalla vita, tutti i fatti. Quando ha visto Ilaria Occhini però cosa ha pensato? La prima cosa che ha pensato? Quanto è bella. Ma poi sapevo che a me la bellezza non basta, ci vuole tante altre cose. E Ilaria queste altre cose ce le aveva tutte. La testa, l'intelligenza, il cuore, eccetera. Cos'è l'amore coniugale? Eh niente, è una bella cosa che si scopre col tempo, piano piano. Piano piano è come se fosse un'alleanza, diciamo così, un'alleanza di due persone che però non escludono il mondo perché se lo escludono non va bene. Ma è un'alleanza di due persone che si sostengono vicendevolmente per tutte le eventualità della vita. Insomma che si fanno compagnia, farsi compagnia è una cosa importante perché oggi una delle cose più triste è la solitudine. Se lei dovesse dedicare alla sua giornata, alla sua vita, una colonna sonora, una cosa da cantichiare nei momenti in cui la luce splende e l'acqua torna trasparente, a che cosa pensa? A che musica pensa? Tiene a mente sta palomma, ma la palomma è la farfama. Come gira e come vota, come si muove, come torna, un'altra vota, sta aceragena, attenta, acerogene la candela. E la palommella, cioè la farfalla, gira intorno alla fiamma della candela. E il poeta l'avete, palumme chistenulum non ne rosogiausumina. Allora, stai attenta, farfallina, perché questa è una fiamma, non è una rosa o un gelsomino al quale tu ti puoi accostare. E allora gli raccomanda, Lo sai che io pure mi sono bruciato la mano per cacciarti dal luogo dove tu stavi andando, vicino alla fiamma, cioè per far capire che, insomma, lui sa che troppo amore brucia le ali. Vorrebbe allontanare la farfallina dalla fiamma dell'amore, però mentre la vuole allontanare, si brucia pure lui la mano, cioè praticamente si innamora pure lui. È bella, no? È bellissima. Eh. Grazie. Prego. 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 Grazie a tutti.